di neve in fondo non è poi caduta molta solo qualche centimetro nel pavese poco di più in provincia di milano eppure nonostante la situazione fosse tutt'altro che critica è stata comunque una mattinata da incubo per i pendolari che ogni giorno devono prendere il treno per arrivare lavoro questa è la situazione attorno alle 8 alla stazione di pavia regionale in ritardo di un'ora oppure sovraffollati tanti disagi eppure qualche soppressione nemmeno l'S13 il passante che collega al nostro capoluogo a milano bovisa ha garantito il servizio il treno delle 7 53 è stato cancellato e nel primo utile si viaggiava così tutti in piedi e stretti come sardine stessa situazione praticamente ovunque in provincia da voghera anche qui sui tabelloni si leggono i ritardi della stragrande maggioranza dei treni avvigevano dove un treno è stato soppresso e i seguenti segnavano diversi minuti di ritardo risultato pendolari ammassati su una banchina dimezzata e un inizio di settimana sicuramente da dimenticare a causare tutti questi disagi sarebbe la difficile situazione sulla milano genova dove a causa del ghiaccio vicino alla stazione di roncoscrivia la circolazione era fortemente rallentata a milano rogoredo poi si è guastato un treno della linea stradella milano altra situazione che ha reso ancora più complicata la mattinata sui social tanti pendolari sono infuriati altri semplicemente rassegnati per i continui disservizi di trenord e mentre si aspetta che passi la bufera si fa per dire si torna a discutere anche del potenziamento delle linee esistenti l'associazione mimoal nei giorni scorsi aveva lanciato una raccolta firme per chiedere il raddoppio della milano mortara dopo il passo indietro di rfi sono 1200 le firme raccolte ad oggi un segnale che si spera possa convincere le ferrovie a riconsiderare il raddoppio come opera prioritaria